Buongiorno a tutti, benvenuti nella sede della quarta commissione. Mi preme prima di tutto informarvi, l'aveva già fatto parzialmente il Presidente, che ai sensi del codice protezione dei dati personali, quindi la privacy, questa seduta è registrata ed è depositata agli atti presso l'intranet del Consiglio regionale, quindi rimane poi a disposizione. Porto anche le scuse, non potrà essere presente l'assessore Mario Melazzini, che comunica, però che concomitante a questa riunione, lui ha un incontro con la proprietà dell'area, rappresentata all'assessore provinciale al lavoro, ha un incontro in questo momento con la proprietà dell'area Leuci, quindi il signor Giuliano Pisati, che a suo dire potrebbe essere risolutiva. La terza richiesta è che quando vi presentate dite il nome ed eventuale la posizione che ricoprite, che rimane anche questa agli atti. Dopodiché l'unica premessa che voglio farvi è che noi siamo qua ad ascoltarvi, io ho richiesto questa audizione, mi preme sapere, oltre alla vostra storia che è molto interessante, e rendiamo adotti anche gli altri commissari oltre a me che vi ho già incontrato, anche le possibili soluzioni e che cosa in concreto Regione Lombardia può fare per venirvi incontro e darvi una mano. Quindi aiutateci ad aiutarvi e metteteci nelle condizioni di poter prendere dei provvedimenti che possano davvero aiutarvi, tutelarvi e tutelare il lavoro, che è fondamentale in questo momento. Non so chi vuole intervenire per primo. Perfetto. Volevo capire una cosa, è l'assessore provinciale che manda questa comunicazione a cui ti riferivi, Violi? Assolutamente sì. Perfetto. Non sapevamo che c'era un incontro in corso, quindi la concomitanza può essere, speriamo, ben augurale. Mettiamola così. Allora, innanzitutto doverosi ringraziamenti a Dioli perché di fatto ci fornisce questa opportunità. diciamo che abbiamo attorno a noi un consenso territoriale notevole, come anche Cinque Stelle, i giovani comunisti, un sacco di associazioni che ci stanno dando una mano, è giusto richiamarle in questa premessa, perché qui la posta in gioco va ben oltre quello che può essere una semplice vertenza aziendale, a nostro modo di dire. Allora, io faccio un'introduzione che poi si integrerà e ben volentieri risponderemo alle vostre domande. La logica è quella di rendere il più chiaro possibile quello che sta succedendo da noi. Allora, innanzitutto la Leuci. Allora, la Leuci è un'azienda che prima si chiamava File, che è nata nel 1919, anche se è difficile sintetizzare ci proviamo. Allora, è stata leader interamente italiana di sorgenti luminose e è arrivata a dare occupazione ai tempi d'oro di ben 600 lavoratori. Allora, giusto per fare un richiamo non tanto al prestigio, forse qualcuno di voi, visto che qualcuno non è giovanissimo, si ricorderà alcune trasmissioni della serie di Tasca Nostra a difesa dei consumatori, quelle prime pionieristiche, dove la Leuci, il prodotto Leuci, si parla di lampade incandescenza in particolare, teneva la competizione con le multinazionali Film e Osram. Io ho presente una di queste trasmissioni dove, a parità di costi e benefici, era addirittura leader dal punto di vista della qualità dei costi. No, questo lo dico non tanto per retorica, ma per inquadrare cosa arrivavamo da dove partivamo. Allora, 600 persone, 140 milioni di lampade incandescenza prodotte, macchinari tecnologicamente avanzatissimi, 5.000 colpi a ora, per dare un'idea di quello che può essere. Ad esempio, siamo stati i primi in Europa a far partire delle linee alogene, con tecnologia alogena, con dei macchinari giapponesi, siamo stati i primi in Europa. Abbiamo lavorato anche a turni, tre turni addirittura, per diversi anni. Allora, questo è un pochettino quello che c'era prima. Nel 2006, entriamo nel vivo del ragionamento, nel 2006 siamo acquisiti dal gruppo Relco di Bucinasco, di cui Giuliano Pisati è il patron. Per la verità, non direttamente, ma attraverso un'acquisizione di una società appositamente costituita, che si chiama Trident, che vedeva tre componenti, uno Relco, un altro un banchiere e un altro, diciamo, un eminente esponente dell'aspetto logistico. Allora, noi chiediamo subito un incontro immediato, noi al sindacato ovviamente, perché siamo ovviamente collegati al sindacato, e sapevamo che la nostra situazione, nessuno l'ha mai nascosta, era delicata. Facciamo riclassificare i bilanci comunque, come si deve fare in questi casi, gente concreta, e non c'è niente di irreversibile. Ci sono dei riequilibri da, questo è quello che viene fuori dall'analisi della riclassificazione dei bilanci, riequilibri da impostare a livello aziendale, quindi tutt'altro che compromessa la situazione. Allora, intanto, in questo incontro chiediamo, ma cosa siete venuti a fare? Adesso, a noi piace essere concreti, e ci sentiamo dire, noi siamo, e io vado per sintesi, siamo innamorati dell'italianità, l'integrazione di gamma, sono quelle considerazioni che spesso si sentono in casi del genere. E addirittura si dice, ma noi investiamo 5 milioni, ce li ricordiamo tutti questi passaggi, ci mettiamo soldi, ci crediamo, manteniamo, addirittura conserviamo dei documenti, dove si dice mantenere la condizione di leader in Europa nella produzione dell'ampere incandescenza. Guardate bene che già allora, per non nascondere un problema che si è incrociato, lo sapete tutti, già allora si profilava il rischio della messa al bando dell'ampere incandescenza. Quindi, già allora, questi signori avevano un'idea che poteva esserci questo tipo di elemento di negatività. Però ci acquisiscono lo stesso. Allora, noi naturalmente avvertiamo, anche qui per essere concreti, una puzza, diciamo, sul movente, e cerchiamo di capire un po' di più. Soprattutto, Alecco, un po' in generale, e non tanto noi, un po' tutto l'ambiente lecchese, si interroga e dice, e ravvede rischi potenziali di una doppia speculazione sul marchio e sull'area immobiliare. L'area immobiliare perché siamo in centro Alecco, e Alecco si è contraddistinta, diciamo, nel recente, ma neanche nel recentissimo passato, per una politica dove le fabbriche sono state sostituite da attività commerciali e residenziali a gogo. Allora, e l'altro discorso è invece il marchio. Il marchio perché, adesso non devo insegnarlo a voi, che siete persone come noi del resto, con gli occhi aperti su queste cose. Ma l'italianità serve benissimo a veicolare prodotti di importazione, in qualche modo collegandolo al fatto che l'italianità è un sinonimo di qualità. Quindi il rischio era di duplice natura. Naturalmente, i loro signori spergiurano che non sono questi i motivi per cui. Ma di fatto, un po' tutti a Lecco ritengono che invece il movente potesse essere quello. Ma lo diciamo senza entrare in un ragionamento dove ognuno può esprimere liberamente valutazioni soggettive. Ma c'è un dato, come dire, ineludibile. Questi signori mettono zero euro di investimenti. Non ci hanno messo un euro a fronte anche di promesse di 5 milioni e quant'altro. Quindi questo è l'elemento fondamentale. Tu sai che ci potrebbe essere messa al bando la lampada in calde scienze. È chiaro che dovresti fare politiche per aggiornare, per riconvertire, per ammodernare, eccetera, eccetera. Allora, da anni noi, e qui subentriamo noi, dal basso, intuendo anche questi moventi, ci muoviamo per tempo e non ci accontentiamo di quello che sinteticamente chiamiamo la politica della riduzione del danno. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli ammortizzatori sociali sono assolutamente importanti. Direi che ci consentono, e non devo dirlo in un'Italia che tutti sappiamo in che condizioni siamo, sicuramente ti consente un po' di tenere qualcosina. Ma se fosse esclusivamente, ragioniamo così, una difesa attraverso gli ammortizzatori e non si trovano le soluzioni per invertire, diciamo, il corso degli eventi, è chiaro che è un'area di parcheggio questa. Il vero problema è cosa riesci a portare per riempire, tenere l'occupazione, ma anche e soprattutto dar possibilità di individuare strade che reggano anche rispetto al futuro. Noi ragioniamo in questi termini. Vi stupirà? Non lo so. Noi ci riteniamo persone normali, ma soprattutto persone che invece che ricorrere gli eventi le anticipano, abituandoci a ragionare e posizionarci senza aspettare che altri ci portino soluzioni, ma contribuendo effettivamente a crearle anche noi dal basso. Allora, da lì nasce un percorso molto concreto. la prima cosa che pensiamo cerchiamo di, ma non come succede adesso quando sei alla frutta, per cui poi vai a attrezzarti e dici andiamo a cercare qualche imprenditore perché adesso si usa a far così. Noi da allora, si sta parlando di anni fa, si va alla ricerca di imprenditori che abbiano caratteristiche e voglia, visto che questo imprenditore fa di tutto nei fatti per dire che lui non ci metterà un euro, correggetemi se sbaglio, e quindi non si impegna a fare qualcos'altro, anche se poi dice, anche lì, diciamo, viene fuori, secondo alcuni, in modo mascherato uno svuotamento graduale della fabbrica. Cioè, poi sapete la terminologia del caso, riorganizzazione della rete di vendita, razionalizzazioni, sinergie, tutte queste parole che si rincorrono. Di fatto noi passiamo da 240 a 130 e soprattutto non facciamo nessun investimento, non si fa nessun investimento in quel senso lì. Allora, noi cosa facciamo? Troviamo degli imprenditori invece interessati che hanno anche dei prodotti innovativi, persone che comunque, nonostante la situazione che è andata sempre più peggiorando, l'abbiamo sotto gli occhi tutti, sono disposti in qualche modo a metterci anche contributi personali. Li troviamo, non solo li individuiamo, ma li troviamo e da lì parte quello che viene definito progetto Cittadella della Luce. Lungi da noi essere rettolici su questo passaggio. Cittadella della Luce cerco di spiegarvi a nome dei lavoratori l'idea che abbiamo avuto noi confortata da un loro sinergico che a macchia d'olio si è allargato e ha visto il contributo di tutto il territorio e possiamo dirlo adesso, è un'idea che mette al centro la parola innovazione e ricerca, ma non teorica, quella che riempie di paroloni i convegni, ma lavorando sul concreto e ci siamo detti perché è lì, in un ambiente storicamente qualificato, perché eravamo leader, dicevamo, non si fa un tentativo, non un tentativo, ci si è veramente una sfida dove concretamente si cerca di mettere un centro di ricerca, un laboratorio, delle imprese in rete che usufruiscono di questa ricerca applicata, la parola magica è ricerca applicata, e diamo una prospettiva oltre a noi, perché è chiaro, saremmo ipocrisi se dicesse che la molla è anche la tutela al nostro posto di lavoro, ma diamo anche un esempio ad altri che possono trarre beneficio anche perché tutti, tutti, ci si interroga su che vocazione manifatturiera ad esempio in Lecchese ma non solo deve mantenere, qual è la vocazione del territorio, che strategie, che scelte concrete si possono fare, noi le indichiamo a quel livello e adesso io ce l'ho qui, potrei farvelo anche vedere, comunque abbiamo tutta una serie di documentazioni, il primo è una firma di un protocollo di intesa che vede tutti i vari attori compreso il livello regionale perché poi parleremo nello specifico di cosa potreste fare voi in parte già seguito dallo stern provinciale su Alecco che è sempre stato presente a tutti i vari passaggi e c'è questo protocollo di intesa dove di fatto si dice bene cerchiamo di concretizzare questa prospettiva della cittadella poi c'è ad esempio per dirvi io sto agli elementi essenziali c'è un studio di fattibilità prodotto dal Politecnico ecco un'altra sinergia di ben 77 pagine che è costato qualche migliaio di euro di spesa suddivisa tra provincia comune e anche associazione datoriale non abbiamo capito se è esattamente così o meno comunque c'è una spesa che presenta alcune direzioni concrete due in particolare un progetto che ha la base scusate se sono un po' pedante ma per capire che non sono balle e parole una che lavora sulle fonti luminose di ultima generazione che sono i led di alta luminosità con delle utilizzazioni particolarissime e troviamo un imprenditore piccolo ma attrezzato a dovere su questa cosa poi ce n'è un altro invece che spazia sui pannelli fotovoltaici polimerici di nuova generazione che sarebbe una mezza rivoluzione allora questo per dire per quanto riguarda la concretezza poi ci sono altri imprenditori dietro perché questa è una partita delicata noi a volte abbiamo l'impressione che se funziona l'innesco altra gente che pure sappiamo che c'è sarebbe interessata alla cosa perdiamo il bando Ergon però vogliamo non nascondere niente bando Ergon che conoscete lo perdiamo non abbiamo capito di turno non siamo stati ammessi non siamo noi che abbiamo gestito questa cosa sono le 6-7 aziende consorziate che sono fidate al Politecnico correggetemi se sbaglio di fatto hanno portato avanti la procedura eppure sono stati squalificati adesso consentitemi questa è una cosa anche pubblica riporto delle dicerie qualcuno ha parlato che magari non eravamo ben targati dal punto di vista politico per poter avere i finanziamenti però sono illazioni che lasciano il tempo di fatto lo perdiamo naturalmente noi non perdiamo affatto la speranza perché quello che è il cuore del ragionamento rimane inalterato anzi ancora di più ci crediamo e quindi partono dei gruppi di lavoro a livello dove c'è ancora lo Stern Camera di Commercio Politecnico Provincia Comune eccetera eccetera e per mesi dividendoci in quattro commissioni se volete c'è qui tutta la documentazione si sbozza quello che può essere un modo per concretizzare la cittadella allora naturalmente e questo era quell'aspetto allora la partita sottile che non vi nascondiamo perché secondo noi è paradigmatica di una situazione italiana dove bisogna inventarsi non essendo ordinaria diciamo non possiamo contentarci di strumenti ordinari ecco un'altra chiave di lettura di quello che stiamo cercando di fare allora si ingaggia sapete benissimo come i media sono importanti noi in quel senso lì da persone pensanti abbiamo sempre pensato di poter dato la posta in paglio che va ben oltre ripeto questa nostra particolare iniziativa ma può interessare molti altri rispetto anche a quello che si riesce a mettere in campo è un esempio lo dicono altri non noi un esempio di cosa si potrebbe concretamente fare ingaggiamo un duello anche con questo imprenditore non ve lo scordiamo perché lui costantemente veste i panni di quello che vorrebbe ma non può il mercato le lampede incandiscenza eccetera eccetera arrivando a fare ragionamenti in questa trattativa ultima perché adesso stiamo arrivando alle fasi finali diciamo attualità dicendo che la trattativa era incolmabile la differenza che c'era tra domande offerte noi dato che conosciamo le cose perché le seguiamo passo a passo smontiamo con una conferenza stampa la presunta incolmabilità perché bastava pochissimo dice che non può essere interessato solo alle sorti suo malgrado vicino alle famiglie che sarebbero noi però non può pensare realisticamente come ogni buon imprenditore deve fare solo a noi ma anche altri 200 dipendenti noi lì ci rimettiamo a dire questo parleremo delle ore ci mettiamo a constatare che se avesse veramente a cuore gli altri 200 dipendenti sfrutterebbe diversamente l'occasione in che senso dato che questo è importante volevo sottolinearlo bene uno dei passaggi fondamentali è che noi sia sulla vecchia amministrazione che su quella attuale spingiamo perché la destinazione dell'aria piano governo del territorio rimanga esclusivamente industriale e artigianale si riesce a ottenere un pronunciamento all'unanimità qualcuno con lo torto qualcuno pienamente ma comunque c'è questa piena condivisione naturalmente non siamo talmente con le fette dei salami sugli occhi da pensare che basta quello perché sappiamo tutti e voi ci dovreste insegnare ulteriormente che i meccanismi possono prevedere il vero rischio e lo svuotamento della fabbrica perché tu puoi anche mantenere la destinazione in centroleco immaginate cioè mantieni la destinazione passa uno due tre quattro cinque anni e chiaramente il vicinato stesso ti dice ma piuttosto che scusate siamo in Lombardia vi dico in dialetto piuttosto che narratera peggio che una topaia cioè cambiate la destinazione il gioco è fatto e questo è un po' l'ipotesi che si vocifra l'ecco no allora su questo noi facciamo un ragionamento e diciamo come tu preferiresti visto che l'amministrazione comunale ti blocca questa destinazione e ti fa anche capire qualcos'altro attraverso anche qui c'è al lavoro anche il prefetto gli fa capire il prefetto tra le altre cose ma vi conviene tenerli anni un'area dove in fruttifera col fatto che il comune non potendo si permette di lasciare andare a malorare diciamo il sito sicuramente potrebbe benissimo fare una una destinazione pubblica e butta l'idea per sondare venisse un giardino pubblico lì ma vi conviene perché dico questo perché adesso comprenderete il tipo di ragionamento che sempre in questa conferenza mi scuso un secondo riusciamo un attimo perché poi ci sono anche interventi di consiglieri che vorranno chiudere e capire precisamente poi Regione Lombardia come può fare da coordinatore di questa faccenda ti ringrazio però è importante perché quello che si cerca di far capire senza presunzione è che qui è una situazione paradigmatica ci sono questa realtà è giusto comprendere questi meccanismi noi diciamo e chiudo era solo un esempio per dire ma se veramente hai a cuore queste persone ma tienili anni in fruttifero e ci paghi le tasse comunali invece che approfittare dell'acquisto parziale dell'area e quindi i proventi e destinarli all'attività chiudo questo aspetto ma era importante indicare questa cosa allora cosa possiamo fare noi allora avete capito comunque che qui se in gioco davvero ce lo dicono altri un modo diverso di affrontare le cose non perché l'abbiamo fatto noi perché è diventata una sfida di tutto il territorio con noi ci sono anche diciamolo apertamente le istituzioni non è un caso che stanno applicando una spinta ulteriore e qui poi dopo se si può integrare e qui arriviamo dopo questa valutazione a quello che potrebbe fare la regione allora ripeto la regione è sempre stata presente dal punto di vista dello stern e ha seguito tutto il percorso noi pensavamo che la regione visto che ci siamo documentati potesse subentrare successivamente ecco perché non siamo neanche ricorsi immediatamente a voi perché c'è stato detto che c'è uno strumento che forse adesso è superato da una legislazione che sta incombendo comunque suonava più o meno così c'era uno strumento detto ci siamo informati patto territoriale o comunque piano di recupero produttivo dove di fatto al di là di quello che era le modalità del bando Ergon che è un'altra cosa come tipo di modalità qui se ci fosse stato e c'è una convergenza all'intero territorio che individua una veramente un esempio di riqualificazione e reindustrializzazione di un'area storicamente importante con prodotti che possono essere embrionalmente all'inizio alcuni ma che poi sviluppano concretamente questi aspetti innovativi ecco se fosse così ci hanno detto che questo strumento poteva garantire anche dei finanziamenti diretti della regione usiamo il condizionale però sottolineo anche questo aspetto ci sono questi primi due imprenditori che non è che aspettano i soldi vostri che sarebbero nostri perché la regione siamo anche noi ovviamente ma già metterebbero loro quote e si sa che la regione non scusce niente se poi non c'è il contributo anche dei privati ma qui ci sarebbe questa possibilità allora noi pensavamo di farvi intervenire se questo imprenditore si apriva perché poi c'era il piano di recupero eventuale quello che state praticando alle cartiere pigna ci risultano o altre cose abbiamo sentito perché poi i nostri assessori a cui riconosciamo di aver svolto un buon ruolo sinceramente non da terzisti ma comunque spingendo adeguatamente secondo noi sono andati sul posto a verificare ad esempio perché tutto si potrà dire ma non che facciamo le cose così buttate là ce le studiamo ce le approfondiamo e quant'altro allora la regione e termino noi pensavamo di far intervenire così se adesso è in corso questa trattativa ennesima perché si cerca di fargli capire che non ci sono alternative il comune sta offrendo alla luce del sole una compensazione di un terzo dell'aria da valorizzare ma i due terzi devono essere mollati a questo scopo della cittadella primo embrione questi due e poi successivamente l'altro centro di ricerca e tutto il resto allora noi pensiamo al di là di quello che pensavamo fosse il vostro ruolo piano di recupero produttivo che potreste svolgere non so in che misura un ruolo supplettivo di spinta noi ragioniamo così adesso non vorremmo scomodare la Costituzione ma la Costituzione dice apertamente alcune cose che l'attività privata è sostenuta dallo Stato purché non in contrasto con l'utilità sociale qui è in corso un rischio questo è il rischio di una depredazione di un territorio che potrebbe invece essere convertito visto che ci sono tutte le premesse in un'azione seria per dare un segnale a tutto il territorio quindi vedete voi cosa potete fare nel senso che sommare anche la spinta della ragione per far capire che qui ci sono spazi concreti di far qualcosa è un primo contributo chiamiamolo politico di spinta che si somma al prefetto alla provincia a tutto il resto a tutto il territorio e poi c'è quell'altro quello che sappiamo tra l'altro che state per varare alcune normative interessanti sulla competitività ci risultano però vorremmo sentire da voi questo io mi limiterei ovviamente a questo se ci sono integrazioni importanti ci sono tanti altri discorsi dietro però il cuore del ragionamento è questo noi vorremmo che capiste che qui ci può essere un segnale concreto da dare un intero territorio e quindi con tutte le valenze che ci possono essere grazie mille per l'intervento se i colleghi soprattutto magari del territorio vogliono intervenire e chiedere chiarimenti prego piazza molto brevemente volevo portare anch'io il contributo che è stato citato all'inizio cioè che oggi mi risulta che sia l'assessore provinciale ma anche una delegazione del comune di Lecco che è parte integrante della partita proprio perché presidia l'aspetto urbanistico ma nello stesso tempo mette a disposizione una certa flessibilità dello strumento per incentivare l'imprenditore ad una maggiore chiamiamola così ragionevolezza in questo momento in questo momento è in corso questo incontro che è un incontro che verte ahimè credo sia giusto dirlo qui su un aspetto minimo in questo momento cioè il fatto di trovare un punto di incontro sulla questione del costo con il quale questi due imprenditori vogliono rilevare parte di quest'area qui però come è stato giustamente detto l'elemento essenziale in questo momento è proprio l'innesco della vicenda quindi se si riesce pur sapendo che parliamo di anche quantitativi occupazionali ridotti molto ridotti in questo momento però se si riesce a creare appunto l'innesco questo sicuramente è il primo passo che magari in questo momento non ha quell'ampia prospettiva che poteva avere la cittadella della luce cosiddetta come era stata disegnata sia da l'amministrazione provinciale che quella comunale che le associazioni di categoria e i sindacali però potrebbe essere l'inizio di quel processo di reindustrializzazione dell'area che potrebbe poi avere proprio un credo quello che mi sembra siete stati a vedere con il dottor Bertinotti dello ster di Lecco alle cartiere Pigna di Bergamo quindi la verifica nostra credo debba essere puntuale su queste cose uno potremmo anche andare a riprendere in questo momento se questa cosa dovesse concretizzarsi penso che potrebbe essere l'occasione per andare a ripercorrere a riprendere il bando Ergon per capire meglio quali furono le motivazioni per capire se lì dentro ci sono ancora degli spazi di incentivazione e l'altro potrebbe essere appunto lo strumento di reindustrializzazione che veniva citato precedentemente come è stato detto lo sforzo delle istituzioni sul territorio in questo momento mi sembra che sia stato testimoniato da un presidio abbastanza costante della vicenda avete giustamente rimarcato anche delle responsabilità da parte della proprietà sulla questione relativa all'area l'area ha un valore altamente simbolico per la nostra città perché è collocata nel centro della nostra città racconta una storia industriale ovviamente molto importante non sottovaluterei nel momento in cui ripeto dovessimo avere da oggi in poi delle notizie positive rispetto a questo innesco non sottovaluterei anche un dibattito che iniziò ahimè addirittura nel ottobre del 2008 nel consiglio comunale di Lecco ma che è stato riportato agli onori delle cronache qualche giorno fa dal presidente dell'unione industriale Maggi sulla necessità che si abbia vicino al Politecnico in questo caso noi siamo vicino al Politecnico quello che viene definito un incubatore di aziende un vivaio di imprese insomma chiamiamolo come vogliamo ma che in questo caso l'area secondo me si presterebbe vi ripeto sarebbe bello andare a rileggere l'ordine del giorno che presentammo in maniera congiunta e unanime al consiglio comunale di Lecco nell'ottobre del 2008 dove parlavamo esattamente individuando quella U come è possibile quell'area proprio per questo tipo di incubatore è stato ricordato Comonext il chilometro rosso l'Ecco Next potrebbe avere la sua collocazione secondo me naturale e simbolica proprio dentro l'area della Leucci Sì consigliere Straniero prego Sì grazie innanzitutto grazie al consigliere Violi che ha portato all'attenzione di questa commissione il tema della Leucci e alla rappresentanza sindacale che attraverso le parole di Germano Bosizio ha descritto bene un po' la situazione dico grazie perché è un'importante azienda del nostro territorio lecchese e tutto quello che si può fare e si può ancora fare per mantenerla viva naturalmente è il dovere di tutti cercare di poterlo fare per quanto riguarda il merito chiaramente è un'audizione quindi più che altro chiaramente come consiglieri siamo chiamati fondamentalmente ad ascoltare le istanze che vengono portate più che a dare delle immediate risposte io non posso fare altro che sottolineare anch'io il passaggio che già stato riferito peraltro sia dal consigliere Violi che dal consigliere Piazza cioè il fatto che proprio contestualmente ieri ho parlato con l'assessore dell'attività produttiva del comune di Lecco mi diceva che proprio contestualmente c'è in corso questo importante incontro che potrebbe naturalmente è doveroso usare il condizionale potrebbe sbloccare la situazione mi parlava di una trattativa per la cessione di una quota dell'area non dell'intera area e questa quota importante dell'area potrebbe essere destinata appunto a questo progetto della cittadella della luce di cui si parlava in precedenza mi ha anche riferito l'assessore di una disponibilità del consiglio comune di Lecco a modificare e questo è un passaggio delicato ma credo anche importante a modificare la destinazione dell'area dove si intende ovviamente di non modificare la destinazione dell'intera area ma solo della quota non utilizzata nell'ambito del progetto industriale proprio per eventualmente disponibilità che è subordinata al fatto di poter favorire il progetto stesso fare in modo che come dire si incrocino diciamo così delle opportunità e quindi proprio se è subordinata a favorire il progetto dice il consiglio comunale ha manifestato questa disponibilità per ora è solo una manifestazione di disponibilità non si è tradotta evidentemente in atti fin tanto che non ci sono poi degli atti precisi concreti sui quali poter lavorare ecco per quanto riguarda il ruolo della regione io credo che se questa trattativa dovesse andare in porto come ci auguriamo tutti il ruolo potrebbe essere importante perché potremmo valutare anche insieme di vedere di mettere in atto quelle iniziative di vario genere che non sto a entrare nel merito che possano supportarlo che possano dargli gambe se invece malauguratamente la trattativa non dovesse andare in porto certo la situazione sarebbe più complicata però questo non toglie che come diceva prima Bosisio la regione possa cercare di trovare quelle forme che possono essere adatte per esercitare questo ruolo supplettivo di cui ci parlava chiaramente sarebbe molto più complicato per cui mi auguro vivamente che la trattativa che è in corso possa avere un esito positivo e in ogni caso come dire credo che come consigli del territorio sicuramente rimaniamo a disposizione per vedere un pochino il proseguo di questa vicenda per cercare di fare quello che è possibile per mantenere viva questa azienda grazie grazie consigliere straniero secondo me sono stati importanti gli interventi sia vostri come dipendenti dell'azienda perché avete fatto chiaramente luce su una situazione adesso Regione Lombardia ha acceso questa lampadina dicendo è chiara la faccenda è chiara la situazione esatto per richiamarci anche a quella che era la vostra produzione è chiara la faccenda è chiaro che sia consigliere piazza che consigliere straniero hanno speso le parole e ci hanno chiarito anche qua il riferimento e quello che stanno facendo le istituzioni locali che mi pare che in tutta la faccenda comunque si siano date da fare si siano attivate per cercare di gestire la situazione nel migliore dei modi e dare poi una continuità operativa all'area quindi il mio augurio la mia speranza è che davvero l'incontro che c'è nato oggi possa dare un esito positivo o possa dare atto a una serie di successivi incontri che possano poi concludersi positivamente quindi secondo me l'intervento di regione Lombardia era chiarire la faccenda portarla qua dentro a Milano e non solo all'interno dello ster a Lecco di modo che la situazione è chiara a tutti ed è conosciuta e a questo punto far pressione poi sulle istituzioni locali che continuino a tenere alta l'attenzione che continuino a far pressione affinché si possa davvero sviluppare un progetto quando poi ci sarà lo sviluppo del progetto allora sì che regione Lombardia entra in campo al 100% perché nel momento in cui un imprenditore acquisisce un'area e vuole fare un investimento importante esistono diversi strumenti che regione Lombardia può mettere in atto per facilitare per aiutare queste persone che poi dovrebbero creare occupazione sul territorio quindi non so se qualcuno poi vuole di voi vuole concludere altrimenti io concluderei qua l'audizione ringraziandovi per la partecipazione e davvero richiamando teneteci informati sulle vicende e su quello che stanno facendo le istituzioni locali nel momento in cui poi c'è il passaggio a quel punto allora davvero regione Lombardia diventa protagonista di uno sviluppo dell'area e di un reinserimento lavorativo che credo sia doveroso in questo momento non so se qualcuno vuole dire due parole esposito al RSU dato che è stato richiamato più volte l'incontro che si sta svolgendo in questo momento penso all'ECCO tra imprenditori cioè l'ho stato lavorato tra imprenditori gli assessori comunale e provinciale diciamo che per noi è quasi un'abitudine cioè vorrei vorrei stornare questa cosa qua cioè momenti cruciali di questa portata ne abbiamo già visti tantissimi tantissimi cioè questo oggi non è una novità cioè non vorrei che visto che è stato richiamato più volte questo incontro di oggi cioè vorrei far presente che non è una novità questi passaggi cruciali diciamo detti cruciali li abbiamo già vissuti parecchie volte con esito sempre negativo non vogliamo essere pessimisti per forza però non vorremmo che anche oggi sia un altro di quei passaggi cruciali che abbiamo già vissuto in questi anni cioè era questo che volevo fare volevo far presente e volevo riallacciarmi un attimino a quello diceva il consigliere o straniero per capire quali potrebbero essere le forme supplettive in caso questo vada ancora una volta diciamo finisce come al solito ha finito in questi lunghi anni cioè un ulteriore incontro un'ulteriore attesa diciamo che finisce male cioè la regione io chiedo quale ruolo può svolgere diciamo in questo caso al di là poi se poi ci sarà lo sviluppo dell'area o meno questo lo sapevamo già come dicevamo abbiamo già informato su altre su altre realtà in Lombardia cioè se oggi questo onnesimo tentativo fallisce qual è quell'azione supplettiva che può svolgere la regione penso di poter rispondere nel senso che purtroppo la regione Lombardia viviamo anche per fortuna viviamo in uno stato di diritto quindi una proprietà privata rimane una proprietà privata quindi il ruolo delle istituzioni e a livello comunale provinciale e anche a livello regionale non possono imporre a un proprietario di cedere un'area possono solo davvero fare delle pressioni e trovare un accordo e facilitare un passaggio di proprietà verso chi vuole investire e riportare lavoro all'interno dell'area però non esiste effettivamente quello che può fare la regione Lombardia diverso da quello che ha già fatto e sta facendo la provincia e il comune per quanto riguarda la vendita dell'area ripeto la regione Lombardia può fare una pressione politica un po' più alta e fare davvero una pressione sulle istituzioni provinciali e comunali dicendo va bene dobbiamo cercare con urgenza di accelerare ancora di più e questo lo può fare e poi può entrare in un secondo momento impegnandosi in modo diretto allora sulla fase di reindustrializzazione questo si può farlo però ripeto siamo uno stato di diritto la regione Lombardia non può arrogarsi un diritto di dire tu non vendi l'area diventa di mia proprietà con un esproprio purtroppo la situazione è questa bisogna essere realistici a venire qua non posso permettermi oggi di dirvi la regione Lombardia interviene se non vendono gli da un ultimatum altrimenti procede con un esproprio l'intento anche di farvi venire qua era davvero di rendere doti tutti anche l'istituzione regionale a Milano affinché davvero tutti i gruppi politici e non solo il Movimento 5 Stelle potessero anche a livello istituzionale locale dire signori non c'è più tempo il tempo è scaduto ormai troppo tempo fa adesso cerchiamo di accelerare di fare un passo di far pressione ma sempre fatto tutto con delicatezza perché ripeto siamo di fronte a una persona che è proprietaria di un'area e che se per qualsiasi motivo decidesse di non volerla vendere anche per un capriccio personale in uno stato diritto può permettersi di farlo quindi io penso che anche la responsabilità delle istituzioni sia quella di far pressione di trovare della flessibilità come ha detto anche il collega straniero anche sugli strumenti che ha a disposizione il comune però davvero avviare una trattativa che sia buon'aria questo non vuol dire creare false speranze l'idea era invitarvi qua rendere davvero tutti mettere tutti a conoscenza della situazione e cercare di accelerare di fare più pressione possibile che è il massimo che in questa fase la regione Lombardia può fare dopo di che ripeto se riusciamo davvero a far pressione a portare a casa questo risultato tutto il resto è un'altra partita che ci giochiamo allora a quel punto la regione Lombardia diventa davvero protagonista volevo dire qualcosa se posso ancora per integrare allora mettiamola così per quanto tutto quello che abbiamo detto e descritto penso che vi siate fatti un'idea ben precisa della effettiva posta in gioco qui non giriamoli attorno allora c'è la proprietà privata che è sacra eccetera eccetera però c'è anche un dovere da parte di tutte le istituzioni per scongiurare questo rischio possibile e per dare un segnale a un intero territorio qui la differenza noi spingendo dal basso ma l'hanno fatta anche gli amministratori perché ci sono amministratori che si trincerano dietro il fatto non sto dicendo a voi non possiamo far niente non c'è la legislazione non possiamo far niente eccetera eccetera questa istaglia va male anche perché secondo noi il mio parere personale in una condizione che non è ordinaria noi rischiamo ancora di ragionare in termini ordinari non è detto che è l'ora di inventarti chissà che cosa ci sono tanti aspetti politici siete tutte forze rappresentate in Parlamento compreso delle leggi che possono disincentivare le delocalizzazioni gli abbandoni in altri paesi ci sono e chissà perché in Italia non si fa però ecco la sottolineatura è noi crediamo che se siamo arrivati a questo punto è perché tutti ci siamo messi in gioco con qualcosa che va al di là dell'ordinarietà facciamo un esempio facciamo scoglio questo signore che ha la proprietà privata va bene abbiamo detto la descrizione e le impressioni che ci sono in giro lo scoglio è lì se arriva un'ondina non crea nessun problema non lo scalfisce neanche se arrivano tre ondine non gli fa niente se arriva un movimento concentrico non gli fa niente se diventa un'onda piuttosto decisa un maremoto forse quello scoglio si inclina questo per dire che bisogna trovarsi anche delle soluzioni inventarsi i rapporti di forza ma non solo che possono veramente tradurre le belle parole della nostra Costituzione ancora assolutamente prioritaria e preziosissima perché dice delle cose precise c'è lo spirito dietro le norme possono essere anche aiutate create supportate ma il cuore della sostanza è quella cioè quando c'è di mezzo l'utilità sociale è chiaro che c'è anche questa cosa l'esproprio adesso anche noi abbiamo come dire andiamo che i piedi piovono vogliamo essere belleitari però l'esproprio teneva conto che quando il conflitto non vorrei farvi questi ripassi ma quando c'è un conflitto tra un interesse privato e uno pubblico non è detto che qui ci siano gli estremi complessivi ma i posti di lavoro viva Dio è l'interesse pubblico che prevale lo dice la nostra Costituzione poi ci sono le indennità gli indennizi tutto un altro capitolo però la cosa è in questi termini perché dico questo perché tra l'altro noi il tempo ne abbiamo pochissimo ve lo diciamo quindi intensificate gli sforzi per parlare il linguaggio della concretezza perché noi a fine mese potremmo rischiare di perdere il posto di lavoro poi dopo noi abbiamo in mente tutta una serie di cose che non escludiamo eccetera eccetera però una cosa è chiara proprio perché siamo consapevoli che qui ci sono tutte le condizioni per passare dalla teoria dei convegni innovazione di ricerca ai fatti lì e ora noi non escludiamo assolutamente e ci abbiamo già messo dentro un piede anche sui media nazionali ve lo diciamo così almeno è un discorso generale perché è vero che numericamente è poco significativa l'occupazione non siamo molti ma è veramente un segnale che può servire a cambiare un po' anche l'idea che qui non si può fare niente mi dispiace ma il mercato siamo impotenti eccetera eccetera qui stiamo andando tra virgolette ognuno ci mette la parola che ritiene anche perché queste condizioni non sono più ordinari ci dobbiamo inventare qualcosa noi dal basso stiamo dando questo contributo se permettete qualcuno dice dal basso è particolarmente significativo insomma che siano anche i lavoratori a volte senza presunzione indicare un modo una grinta ma non una grinta di quelli che si legano ai cancelli che fanno testimonianze che hanno bisogno di alzare il tono il lavoro di per se stesso deve essere una priorità ma trovando le forme giuste e soprattutto non rassegnandosi noi probabilmente non saremmo arrivati fin qui se avessimo ragionato in termini ordinali cassa integrazione va bene cosa possiamo fare questo dice di no eccetera eccetera invitiamo tutti a ragionare così e noi su questa cosa andremo oltre perché pensiamo che possa servire a dare un segnale qualcuno non noi dice addirittura a livello nazionale sì nel senso di situazioni simili alla vostra anche quando vi ho incontrato ve l'ho detto ne viviamo ormai in regione Lombardia quasi tutte le settimane quindi io quello che tendo a dirvi è quello che davvero la regione Lombardia può fare perché altrimenti potrei raccontarvi la favola ve ne andate contenti poi tra un mese siete ancora quella non mi pare assolutamente nel serio stiamo parlando di famiglie stiamo parlando di questioni sociali mi sembra una cosa indipendentemente che siano 30 20 50 o 500 posti di lavoro sappiamo che dietro c'è una famiglia c'è un ruolo sociale ci sono diversi aspetti che nessuno qua vuole mettere in dubbio però vi dico è vero strumenti straordinari in alcuni casi e vi avevo anche fatto alcuni esempi la regione Lombardia si è attivata molto bene e anche grazie a disponibilità a proprietà che all'inizio era molto restia a mollare ci sono stati casi di reindustrializzazione o sono in corso in questo momento in altri no io davvero quello che vi invito è siete venuti qua avete portato la progettazione magari poi se potete lasciare o mandare anche la documentazione alla commissione dei progetti che sono stati fatti anche dal Politecnico eccetera di modo che tutti siano informati anche sulle progettazioni esecutive e poi davvero l'impegno primario della politica e quello che può fare la politica per andare oltre è fare pressioni forti però ripeto bisogna sempre mantenere un certo equilibrio perché le soluzioni che sono state trovate quei 4-5 casi felici che sono stati trovati sono stati trovati perché c'è stato equilibrio dove c'è stata una prova di forza ripeto di fronte a un privato un privato può anche lavarsene le mani dire guadagno abbastanza per potermi permettere di lasciarli e l'utilità sociale è vero è rimarcata dalla Costituzione però poi esiste tutto un iter legislativo che ti permette di bloccarti l'area per anni quindi se vogliamo ragionare in termini realistici e facendo gli interessi vostri davvero bisogna lavorare insieme in sinergia cercando di far pressione e con il realismo guarda ad esempio questo realismo ha portato giustamente Piazza faceva ragionamento rispetto a Maggi l'abbiamo visto anche noi con piacere sul giornale ma questo è un esempio di come continuamente richiamando tutti a un atteggiamento concreto poi si muovono le cose perché questa cosa qui è un po' che lo diciamo Maggi la sta raccogliendo e dice ma perché non farla anche lì ma questo vale per il politenico o vale per altri cioè l'importante è vero non ti puoi inventare soluzioni devi essere concreto però se insieme ci si crede e giustamente tu ci ricordi che ce ne sono tante altre noi siamo d'accordissimo l'unica differenza lo dicono altri i nostri colleghi che qui si è partiti con questo tipo di approccio e si è costruito attorno poi l'esecutività non c'è allora ci sono degli studi c'è tutto il resto ma non pensare di trovare un piano industriale non c'è ancora adesso parliamoci chiaro c'è questa volontà di questi due e c'è tutto un contesto questo è il discorso però se siamo arrivati qui qualcuno continua insomma se non ci avessimo riprovato più volte all'ennesima trattativa a ragione Maurizio dice quante volte abbiamo vissuto queste cose questo dice di no perché e l'altro non c'è più niente da fare e noi a riprendere e gli altri a seguirci e quindi è questa la concretezza che ci piace va bene se ci sono altri interventi oppure niente io vi ringrazio davvero di essere venuti e di aver esposto la vostra situazione i consiglieri del territorio e la regione Lombardia rimangono a disposizione e faranno anche pressione sulle istituzioni locali perché davvero la faccenda si risolva nei modi migliori quindi assolutamente mi sembra indispensabile e sono certo che i miei colleghi del territorio si attiveranno se non si sono già attivati per davvero supportarvi e portare avanti tutta la questione quindi mi auguro che nelle prossime settimane se non già oggi incrociamo le dita si possa davvero risolvere in modo positivo la faccenda e a quel punto davvero vi rinvito a quel punto per predisporre davvero un piano industriale per industrializzare l'opera con la regione Lombardia che a quel punto potrà essere veramente protagonista grazie mille grazie mille grazie mille